Musica Dunque, di fronte al contenuto di questa riunione, di questa conferenza, si possono sollevare come sempre alcune obiezioni, tre principali, due le abbiamo già trattate e le sfoltiamo rapidamente, la prima, ma con tutte le brutte notizie che arrivano, questi problemi che ci assilano, non si potrebbe parlare di qualcosa di più allegro. Vedremo che la nostra concezione della morte è giusta solo al 50%, la seconda potrebbe essere un po' più profonda, ma è più tipica proprio dei non addetti ai lavori, ma adesso siamo vivi, occupiamoci di questa vita qui e di quella dell'aldilà ci occuperemo dopo e ancora una volta dimostreremo che è un gravissimo errore. La terza è di metodo, potrebbero dire che abbiamo già ascoltato due conferenze su argomento simile, eh sì, però queste conferenze non sono sassi lanciati casualmente nello stagno, la loro ambizione vorrebbe essere quella di indurre chi li ascolta, attraverso l'opera di Rudolf Stein, costruirsi una cattedrale antroposofica interiore personale. Quindi evidentemente c'è un progetto, dicevo mail quotidianamente, ogni tanto qualcuno mi dice ho sentito le conferenze ma sono ancora confuso, gli chiedo subito ma le sentite tutte dall'inizio? Ah no, no, solo gli argomenti che mi interessavano. Eh, questo è il metodo sicuro per finire nel buio assoluto, nello smarrimento. Eh no, facciamo le fondamenta, poi il primo piano, eccetera, eccetera, eccetera. Questo comporta naturalmente che cosa? Come in tutti i percorsi formativi, gli argomenti fondamentali perlomeno ritornano a un livello più impegnativo, più difficile. Studio la geometria euclidea, teorema di Pitagora, poi passa la trigonometria, poi la geometria non euclideo, gaussiana, prospetica, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è inevitabile approfondimento comportante difficoltà. Qui c'è una sottolineatura che non è pleonastica. Il cruccio di queste conferenze è mettere d'accordo due raccomandazioni importanti di Rudolf Steiner. La prima è stata questa. Chi si vuole prendere la responsabilità di comunicare le verità della scienza e dello spirito deve essere così preparato e sicuro di sé che la sua esposizione risulta comprensibile a tutti, anche a quelli che non sono nati con un karma familiare in grado di consentire l'accesso agli studi accademici più sofisticati. La seconda è chi si prende la responsabilità di comunicare le verità della scienza e dello spirito non deve facilitare troppo perché questo induce lo sviluppo dell'egoismo nell'ascoltatore. cioè una ricezione sempre passiva che non impegni e cresce proprio la parte che l'antroposofia invece vuole trasformare in qualcosa di più elevato. bisogna un po' barcaminarsi tra le due. Quindi sia l'approfondimento in sé comporta difficoltà sia questa ulteriore necessità. E in che consiste poi essenzialmente la difficoltà? Sostanzialmente in due canali principali uno a livello concettuale del pensare e uno del sentire. Quello del pensare si intuisce già da tempo sottolineiamo l'importanza di sviluppare la coscienza immaginativa ci siamo serviti di molte immagini proprio nell'ultima conferenza la Natività, Michele con la spada, la Trinità eccetera eccetera ogni stagione ne abbiamo proposta una. Quindi la difficoltà è proprio questa che salendo verso il vertice della piramide o verso i piani alti della cattedrale ci allontaniamo dalla concettualità logica ordinaria e quindi bisogna fare uno sforzo di adattamento del pensiero che poi è proprio lo scopo principale dell'antroposofia ma è difficile. A livello del sentire invece la difficoltà consiste in questo che ci vengono proposte delle verità che nella vita di tutti i giorni giustamente noi respingiamo. Una persona sana cerca di evitare malattie, sofferenze, disgrazie invece a livello soprasensibile se il sé superiore di una persona si rende conto che per correggere un difetto non c'è che una grave malattia non esita. Questo è difficile da accettare con la nostra coscienza ordinaria. Dunque, questa era una premessa un po' stucchevole forse ma necessaria. Oggi noi ci troviamo in una situazione molto particolare che l'uomo per esempio che fino alla fine del Settecento si muoveva solo a cavallo o in una carrozza tirata da cavalli e praticamente non aveva. Cioè noi abbiamo un muro, un autentico muro intorno a noi costruito dalla tecnologia. È un muro spirituale potentissimo per cui continuare ad avere una fede nell'aldilà rasenta veramente un impegno non comune. Era un problema che l'uomo del Settecento ancora non aveva seppure si avvicinava già alla nostra situazione. Addirittura a livello iniziatico oggi raggiunge la coscienza immaginativa richiede lo stesso sforzo che tutta l'iniziazione ai tempi, che so, di Dante Alighieri. Questo spiega perché l'antroposofia ci è stata data proprio adesso. Perché deve superare un ostacolo particolarmente arduo. Questo comporta che cosa? La particolare natura delle comunicazioni antroposofiche che non sono mediate esclusivamente dalle percezioni sensoriali. perché ciò che qui è pensiero nell'aldilà è fatto. Questa proprio è un'equazione fondamentale. E i pensieri esclusivamente riflessi dal cervello, cioè dall'organo cerebrale seguono la sua sorte con la morte. Non riescono a passare la soglia. Quella che qui è saggezza saggezza è una conoscenza venata di amore in queste competenze è una parola che usiamo raramente perché è troppo alta ma oggi la usiamo. Conoscenza intrisa d'amore quella è saggezza. La saggezza dall'altra parte è luce. Proprio luce. Si può vivere un buio terribile dall'altra parte. La psicologia giustamente ha individuato molte cause per la paura irrazionale del buio che hanno persone ancora da adulti e bambino si può capire. Sicuramente tutto quello che ha individuato è vero ma c'è una causa ancora più profonda. Aver passato anni, anni, anni se non secoli in una cecità totale lascia questi imprinting come i sardi che sono l'ultimo popolo accadiano se li conoscete bene hanno un timore rivenziale verso il mare. Non sono proprio non hanno un trasporto come può averlo un ligure assolutamente lo rispettano ma che hanno ancora il ricordo del diluvio nella loro eredità spirituale animico-spirituale. Quindi ciò che è saggezza è luce di là ma lo è anche qua. C'è una bellissima frase di Leonardo che dice chi non conosce veramente conoscenza non saprà mai veramente amare. È un'intuizione molto molto profonda. Ora se questo è il quadro noi possiamo immediatamente individuare la prima legge che collega questo mondo all'altro ed è questa. Lo spirito che si può percepire nei mondi spirituali è tanto quanto quello approfondito qui. Voi qui vi disinteressate tutta la vita completamente di problemi spirituali in senso lato eh anche una grande passione artistica è sicuramente un fenomeno spirituale dall'altra parte non percepite nulla. Questo ci porta a individuare una delle ragioni fondamentali dell'esistenza dell'umanità cioè se noi non facessimo l'esperienza che facciamo qui nello spazio attraverso i sensi e l'intelletto che ne interpreta i messaggi noi non vedremo nulla dall'altra parte quindi l'uomo non è stato creato come un orpello della vis dell'energia eccessiva degli dèi no no l'esistenza dell'uomo corrisponde a un'esigenza precisa che approfondiremo ancora meglio dopo di esistenza vivibile nell'aldilà ora inevitabilmente siamo al concetto fondamentale che è quello che spartisce i due mondi che è la morte abbiamo già detto una volta che l'antroposofia non ha l'ambizione di ridurre il dolore per le perdite sarebbe veramente un po' illusorio non ce la dobbiamo nascondere dietro un dito perdere una persona cara persino un animale si soffre in un modo incredibile quando muore il proprio cane la prima reazione non ne prendo più dopo una settimana uno sta al canile perché siamo agli animali abituati a viverci però questa è veramente metà della verità perché vista dall'altra parte è il momento più glorioso di tutta la nostra esistenza ultramondana perché è la certezza assoluta della vittoria dello spirito sulla morte e della nostra perennità qui bisogna però aggiungere qualcosa perché il concetto l'avevamo già anticipato non è il momento della morte in sé perché sennò potrebbe essere drammatico portarselo dietro per secoli e secoli dall'altra parte sì uno che muore tranquillamente nel suo letto circondato dai conforti religiosi e dai suoi cari ma uno che muore migliottinato dovrebbe vedere per tutta l'eternità sta testa che rotola no tra l'altro non sarebbe nemmeno possibile è il momento in cui dall'altra parte per la prima volta ci rendiamo conto che avviene subito dopo la morte che siamo effettivamente morti perché morire sostanzialmente che significa il distacco definitivo dal corpo fisico da parte degli altri tre l'eterico l'astrale e l'io e qualunque sia il tipo di morte la causa avviene sempre all'uniello del cuore sempre lì si esce da questo mondo e si entra nell'altro questo lo dice anche il linguaggio comune esalò l'ultimo respiro è una frase che il cuore cessò di battere alle ore questa è ricorrente in letteratura anche nei referti medici quindi vista dall'altra parte in questo momento iniziale del nostro percorso la morte toglie ogni dubbio sull'esistenza ultraterrena sulla spiritualità e ci aggiunge un'altra dimensione questa adesso l'abbiamo già anticipata ma la dobbiamo specificare proprio come è sensazione perché il sottotitolo di questa conferenza è percezione e sensazioni cioè l'individuo vede benissimo da defunto questo spazio cosmico che comincia a estendersi intorno a lui pieno pieno di attività animica spirituale e vede un vuoto al centro e si rende conto che quel vuoto è lui e che solo lui lo può riempire se lui non si imbarca in questo personso un dramondano che lo dovrà portare a un'altra incarnazione possibilmente utile e giovevole non solo a lui quel vuoto è incolmabile questo dà l'ulteriore certezza che siamo indispensabili per la vita del cosmo cosa che è difficile acquisire qui sulla terra il nichilismo striscia da tutte le parti potremmo persino dire che questa è una società sostanzialmente nichilista di valori insomma non scendiamo nel banale quindi questa esperienza post-mortem ci accompagna per tutto il percorso perché è importantissima per un altro fine e qual è l'altro fine l'altro fine è che ci si potrebbe chiedere ma questa coscienza che dobbiamo sviluppare nell'aldilà su che base la sviluppiamo ecco questo lo approfondiremo gradualmente e per il momento ci basti però rilevare che se una persona arrivasse iniziaticamente ad avere la stessa coscienza che ha nel fisico nell'eterico nell'astrale e nell'io la morte per lui non esisterebbe al momento in cui il fisico non è più in grado di operare se lo toglierebbe come una muta di un serpente che cambia pelle e immediatamente apparirebbe in tutta la sua completesse il sé spirituale cioè il gradino successivo per noi naturalmente questo è un caso molto eccezionale molto eccezionale qualcuno lo segnava a blu al liceo ma qui bisogna mettercele tutte e due le parole perché eccezionale da solo non basta è veramente un caso tremendamente raro che ne dobbiamo dedurre per continuare il nostro rapporto tra l'uomo e il cosmo che nella morte si sviluppa un'essenza dinamica che ha un'importanza eccezionale non solo per noi nascendo riceviamo dal cosmo una serie di forze che arricchiscono le nostre forze karmiche perché con le sole forze karmiche non riusciremo a reincarnarci noi utilizziamo queste forze per tutta la nostra vita a livello del sentire pensare e volere morendo le restitutiamo al cosmo umanizzate cioè arricchite di tutta l'esperienza umana lo facciamo già durante la notte in piccola misura i defunti collegati a persone che seguono per esempio l'antroposofia di notte si nutrono in una maniera meravigliosa quando li rincontreremo di là ci saranno molto riconoscenti perché proprio vengono la notte ad abbeverarsi e restituiamo al cosmo che cosa la ricchezza che ci hanno donata ulteriormente elaborata da noi nella dimensione dello spazio che nell'aldilà manca completamente c'è solo il tempo questa questa donazione che tutti fanno perché non c'è una persona che spreca completamente tutta la sua vita non ha combinato proprio niente di buono ovviamente sfumature infinite è indispensabile per il cosmo affinché gli astri mantengono la loro orbita la loro velocità eccetera questo naturalmente senza una mediazione spirituale anche un serio un serio astronomo ben disposto sorriderebbe perché dice ma come un risultato animico ammesso che esista fa muovere un pianeta pesante morto come greve come può essere la luna o Marte certo ma noi abbiamo già trattato l'argomento e meriterà di essere approfondito sono le entità spirituali che fanno muovere i corpi celesti sono quelle che imprimono gli spiriti del movimento la rotazione i cherubini stanno attenti che le orbite non si inchiniano i serafini collegano il nostro sistema solare con gli altri sistemi solari quindi sono loro che ricevono questo nutrimento e qui bisogna fare una constatazione molto coraggiosa l'elemento minerale si nutre del subminerale il fisico parlerebbe di subatomico il vegetale di minerale è subatomico e la pianta assume calcio assume fosforo dalla terra assume un sacco di metalli per poter vivere l'animale si mangia il vegetale e il minerale quando il cane rosicchia tutto contento un osso si fa una scorpacciata di calcio l'elefante si fa fuori in un bosco in una giornata mangia foglie di tutti i tipi l'elemento vegetale l'uomo mangia animale troppo mangia vegetale mangia minerale subminerale quindi nella logica di questo discorso perché noi non dovremmo essere mangiati le gerarchie si mangiano i nostri pensieri i nostri sentimenti e i nostri desideri sono il loro cibo ora procedendo nel percorso che abbiamo iniziato sappiamo adesso per averlo già detto nella conferenza sull'aldilà che incontriamo i famosi tre giorni del quadro sinottico contemporaneo cioè immediatamente tre giorni dopo la morte siamo letteralmente circondati da tutti gli eventi della nostra vita non li vediamo uno dopo l'altro quello viene poi nel Kamalokal vediamo gli eventi tutti intorno a noi perché si sono tutti impressi nel corpo eterico e il corpo eterico non essendo più ostacolato dal fisico perché l'abbiamo abbandonato definitivamente si può esprimere completamente ovviamente risente subito di che cosa della pressione immensa del mondo eterico cosmico quindi questo che significa che un iniziato che abbia elaborato il suo corpo eterico ad altissimi livelli lo conserva tutto non cede al cosmo nulla Zaratustra a livello tale che poter cedere il suo corpo eterico a Mosè e anche qui siamo nel caso straordinariamente eccezionale la persona normale invece assiste a questo fenomeno che il corpo eterico si ingigantisce e come tutte le sostanze che si ingigantiscono si diluiscono e alla fine si dissolve nel mondo eterico intorno a lui non è un'esperienza spiacevole è una seconda morte ma anche questa risulta poi gratificante e vedremo perché ora evidentemente in tre giorni si ha il panorama di tutta la propria vita passata dal punto di vista della coscienza diurna cioè di quello che abbiamo fatto da svegli perché poi siamo attivissimi di sonno ma quello che facciamo nel sonno in questi tre giorni non appare e questo è già un punto fermo impressionante importantissimo per la conservazione dell'autocoscienza nell'aldilà perché una cosa deve essere chiara qui è assolutamente indispensabile conservare la coscienza dell'io l'unico momento in cui ci concediamo di prendere è proprio il sonno perché è fisiologico un buon medico se gli dicono guarda che ha perso la coscienza per mezz'ora si allarma subito temo che in quel caso una tacca non gliela toglie nessuno cioè perdere la coscienza che è un fatto grave non ne parliamo le grandi amnesie traumatiche oppure per altre cause l'individuo proprio deve essere circondato da molto amore se no poi si trova veramente in situazioni d'astrosi qui bisogna conservare la coscienza dell'io ma l'aldilà è lo stesso noi non potremmo parlare mai di immortalità se una volta morti non ci fosse più nessun collegamento con l'io terreno diventassimo una forma spirituale amorfa che immortalità sarebbe rientriamo nel settore di alcune visioni scientifiche che dicono che siamo solo un'energia che quando il corpo fisico non è più in grado di mantenere le sue funzioni si disperde nel cosmo allora è molto importante questo mantenere la coscienza e ci sono parecchi ma parecchi livelli di intervento affinché questo possa succedere dunque la principale conseguenza qual è? è che tutti finiranno per reincarnarsi rarissime eccezioni che tratteremo ma è una bella differenza reincarnarsi avendo conservato il più possibile la coscienza oppure no perché ci permette e vedremo a che livelli di partecipare alla costruzione del nostro corpo e del nostro karma e diciamolo pure del dharma cioè della zona della vita della società dell'epoca in cui ci incarneremo è perdere la coscienza dell'aldilà delle conseguenze gravissime per parecchie incarnazioni c'è un altro dettaglio che merita essere sottolineato nei tre giorni di cui stiamo parlando si può parlare al defunto quasi come stiamo parlando qui e capisce tutto come mai? perché ancora è il corpo eterico certo dal secondo giorno in poi meno il terzo ancora meno alla fine niente e perché capisce? perché come abbiamo detto molte volte ma è un argomento che andrà approfondito il pensiero si forma nel corpo eterico diventa cosciente perché viene riflesso dal cervello fisico il programma si forma via deolada e diventa visibile perché ci avete il televisore fisico che trasforma il segnale nelle etere persino la parola etere eterico e ve lo rende fisicamente visibile è lo stesso meccanismo però il momento in cui il pensiero non lo formuliamo è quello eterico è lì il defunto ha il corpo eterico ancora ce l'ha è legatissimo dal punto di vista affettivo con i suoi defunti per cui percepisce quasi tutto la velocità con cui un pensiero passa dalla formulazione eterica alla sua autocoscienza cerebrale è di molto superiore a quella della luce andando avanti questo nel Kamaloka diminuisce sempre di più e sparisce completamente nel Devachan lì non c'è nessuna più possibilità di dialogo logico dialettico ma ce ne sono altre c'è una caratteristica importante però nel modo in cui soprattutto nel Kamaloka il defunto percepisce le parole dunque il genio del linguaggio l'abbiamo constatato molte volte è di parecchio superiore alla nostra abilità semantica e però si muove con colonne fondamentali molto ben scolpite le parole composite sono un'invenzione delle varie culture il defunto tende a percepire il linguaggio primordiale e le scompone userò proprio gli esempi che Rudolf Steiner perché non vedo perché dovrei trovarli io li fa in parecchie lingue per esempio in latino se scrivo la parola negozio allora negozio che significa? un'attività imprenditoriale un'attività comunque indirizzata verso un progresso verso un'azione verso un'acquisizione il contrario esatto di stasi di inerzia in diritto privato la sentenza fondamentale il negozio giuridico si conclude con l'accordo delle parti la scrittura la registrazione sono tutte modalità per l'opposizione ai terzi i due contadini al mercato ti do 3.000 euro per sta mucca 2.500 2.800 si danno la mano l'accordo il negozio giuridico è completo hanno messo in moto un'attività ecco il defunto percepisce questo non ego ozio non sto con le mani in mano altra parola per esempio Orazio discorso evidentemente un'attività non potrà mai essere una riflessione interiore e lui la scompone in os bocca razio cioè discorso espresso attraverso la parola il dottore fa anche esempi moderni qui non voglio insistere con la parola courage in francese cuore più entusiasmo eccetera eccetera ora questa fase dei tre giorni a questa vita interiore che abbiamo descritto è piuttosto significativo che cosa che qui abbiamo gli eventi intorno a noi della nostra vita e questo non succederà più tutto il nostro corso nell'aldilà quindi come si sviluppano le sensazioni e le percezioni sottotitolo della conferenza di oggi nell'aldilà innanzitutto su una base percettiva come qui qui nel grembo della madre si formano gli occhi con i quali il neonato il bambino il ragazzo l'adulto percepiranno il mondo intorno e gli occhi per percepire il mondo spirituale dove si formano si formano all'interno dell'esperienza vitale che ci portiamo dall'ultima vita vissuta quello è proprio il feto è il grembo della partoriente scusate ancora una volta si dimostra l'importanza fondamentale della vita sulla terra intanto qualche religione dice no non è questa la vera vita come non è questa la vera vita il destino dell'uomo si decide qua ritorniamo alla frase di prima lo spirito che si può percepire nel mondo spirituale e tanto quanto quello approfondito qui questo è un settore molto specifico e particolare ma il complesso della nostra vita è il grembo dal quale si formano gli occhi spirituali e la coscienza la coscienza a qualunque livello ha bisogno sempre di un impulso di stimolo altrimenti non si desta qui qual è lo stimolo ci svegliamo al mattino pareti muri luci suoni campane parole freddo caldo il bambino come la sviluppa la coscienza comincia a toccare intorno a lui e si rende conto che lì c'è qualcosa e lui che la tocca sta qui facendosi male spesso poi naturalmente crescendo a 21 anni comincia a sviluppare l'autocoscienza cioè prende concettualmente contezza della sua dimensione umana individuale e dall'altra parte contro che cosa si deve urtare per svegliare la coscienza contro la vita passata con l'esperienza che abbiamo fatto subito dopo il passaggio della soglia della morte continuamente cozziamo contro la nostra vita passata e da questo urto formiamo gradualmente la coscienza anche lì è graduale che ci dovrà accompagnare in tutto l'aldilà con una caratteristica fondamentale che qui la percezione è data in filosofia chi l'ha studiata la differenza tra il dato e non data è fondamentale case persone animali sono tutti lì e noi li dobbiamo solo osservare la percezione nell'aldilà è solo esclusivamente conseguenza di una nostra attività se non ci attiviamo sonno non percepiamo niente e questa vista poi come si esercita è in un modo piuttosto lontano e qui comincia la difficoltà concettuale di cui parlevamo all'inizio se per esempio un defunto incontra un caro defunto prima di lui c'è l'incontro ma non lo riconosce si deve attivare molto per arrivare a riconoscerlo come è difficilissimo da spiegare posso solo dare una metafora immaginate di essere in una sala di un museo immediatamente improvvisamente va via la luce e voi toccate inavvertitamente una statua la plasmate bene magari se siete interessati anche particolarmente come fanno i ciechi quando cercano di individuare una fisionomia poi uscendo c'è un blocco note c'è una penna e voi cercate di strateggiare quello che avete palpeggiato è una metafora brutale molto dozzinale però più o meno il processo è questo da piccole percezioni percezioni arriviamo a formarci la fisionomia del defunto e lo riconosciamo stranamente invece indirizzando l'attenzione verso un caro ancora incarnato la cosa è immediata viene riconosciuto immediatamente questo è piuttosto contro senso dal punto di vista dell'ordinario e valutazione delle cose si penserebbe il contrario c'è ancora qualcosa da aggiungere e quale che qui abbiamo percezioni sentimenti pensieri e desideri anche di là non sparisce nulla però prendono un aspetto completamente diverso caratterizzato da un spartiacque radicale tutte queste quattro dimensioni devono essere sollecitate sempre da fuori qui no io posso decidere per esempio indirizzare a un mio caro difunto tutto il contenuto di filosofia della libertà chiudo gli occhi e me lo rivedo tutto e lui lo percepisce come se lo leggesse non me l'ha manco chiesto là no tutto deve essere stimolato da fuori anche lì naturalmente si impara piano piano a interferire senza disturbarli questi processi soprattutto per un motivo che la visione è solo passiva cioè io qui so benissimo che sto vedendo voi questa libreria la sa nell'aldilà se vedo un angelo mi rendo conto di vederlo quando nel momento in cui sono certo che lui sta guardando me nel momento in cui l'angelo mi vede io vedo lui quindi ecco perché immaginate che significa approfondire questi temi e passare la soglia sono diventati comunque parte della nostra essenza più profonda del sé superiore arrivarci senza essere mai occupati ora ci sono due caratteristiche aggiuntive che sono determinanti la prima è piuttosto penosa e la seconda rischiosa qui noi non possiamo agire direttamente con l'eterico con l'astrale e con l'io scusate con il fisico con l'io si accidenti chiunque se potesse agire col fisico colpito da una malattia se la toglierebbe prima di andare dal medico purtroppo non abbiamo questa possibilità e anche a livello dell'astrale che è la nostra parte più debole un depresso se potesse togliere la depressione lo farebbe a livello eterico che è il mondo delle abitudini e quante abitudini ci vorremmo togliere che riconosciamo è non sempre facile anzi quasi sempre difficile modificare le abitudini invece con l'io possiamo intervenire continuamente mi accorgo di aver fatto un torto ingiusto a qualcuno se sono abbastanza nobile d'animo capisco che devo riparare e mi attivo e probabilmente ci riesco anche compenserò chiederò scusa offrirò qualcosa nell'aldilà quando incontro un'anima e mi rendo conto che è uno a cui ho fatto un grave torto immediatamente vorrei riparare è impossibile la situazione non è modificabile per modificarla devo aspettare l'incarnazione successiva è un dolore tremendo che sviluppa la forza di programmare un karma nella direzione riparatoria però è pesante come situazione quindi è meglio comportarsi bene se qualcuno commette un crimine nessuno per i presenti naturalmente di quelli che si occupano di antroposofia e sfugge ai rigori della legge è male molto meglio che almeno paghi qui con l'io con le sofferenze questo almeno non se lo ritroverà poi di là perché là poi non può fare niente qui se gli va bene dopo un po' di tempo come dicevi per mesi eccetera la vita può continuare ora c'è un lenitivo sì c'è se si riesce a trovare un contatto abbastanza forte con le gerarchie sono in grado di alleviare molto molto questa sofferenza però anche qui dipende dalla solita prima frase le gerarchie si occupano di quelli che si sono occupati di loro non possono fare a meno se noi andiamo di là senza questa caratteristica non hanno appigli non sanno dove dove raggiungerci come raggiungerci la seconda caratteristica quella rischiosa è di natura diversa qui si dice degustibus disputandum non est mi raccomando col verbo alla fine oppure non è bello ciò che è bello ma è bello ciò che piace ed è verissimo ciò non toglie però che nell'ambito di una cultura i concetti di bello e brutto sono abbastanza comuni uno guarda una cazzella che salta con quei salti meravigliosi bellissima poi rinoceronte questo lì è difficile di che è bello come la cazzella sarà impressionante potente insomma via via adesso non scendiamo nel banale evidente ci sono dei criteri uno guarda la dama con l'ermellino di Leonardo e come fa di che è brutta ah figlio mio tu proprio devi andare in anamnesi ma brutta pesante con tutte le sfumature immaginabili questi concetti sono abbastanza acquisiti ora nell'aldilà questo sarebbe ingannevolissimo perché entità veramente pericolose si presentano con degli aspetti smaglianti bellissimi luci acorci astrali sfumature meravigliose questo la dice lunga su tutti i racconti di quelli che dicono di aver avuto esperienze nell'aldilà in cui hanno visto una luce e poi una figura magnifica meno male che si è tornato di qua allora come ci si regola nell'aldilà bello è ciò che mostra onestamente la sua essenza brutto è ciò che la inganna che la copre che mente rimane nell'antico ebraico mefistofere mefistofere si traduce ingannatore mentitore mefis toifel e come ci si difende perché questo è un pericolo serissimo ci si difende sforzandosi al massimo di limitare l'egoismo qui sulla terra se una persona arriva nel mondo spirituale veramente avendo dominato la parte eccessiva dell'egoismo su questo voglio spendere due parole perché si rischia facilmente spesso di ascoltare delle definizioni un po' sentimentali c'è una parte di egoismo necessaria indispensabile che dobbiamo difendere dobbiamo conservare si spinge in un certo modo ad essere attivi ad aggiungere dei risultati a proteggerci fisicamente con dei beni materiali indispensabili a assicurare ai nostri cari di che vivere questo è un egoismo sanissimo spara a zero continuamente contro l'egoismo quanto di più veramente plebeo ci possa essere con tutto rispetto per la plebe poi c'è però un egoismo veramente ultroneo che quasi sempre è un derubare depredare gli altri di qualcosa per loro indispensabile è per noi forse superfluo non voglio accusare nessuno un abitante di Las Vegas consuma 800 litri d'acqua al giorno un africano del Sahel ci vive un anno devo dire però che sono i più bravi al mondo a riciclare tutte le fontane che vedete hanno fatto cose favolose allora una certa soglia di egoismo bisogna addirittura insegnarla ai figli non debbano essere troppo aperti troppo remissivi no 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 a meno che poi un giorno uno non si presenta che è San Francesco del Carnato ha letti fermi ha altre armi per difendersi ma per tutto l'eccesso d'egoismo che in questa società è veramente ridondante ridondante ecco questo lì diventa veramente pericoloso perché non ci permette di riconoscere chi mente perché? perché di fronte alla persona che si presenta nei mondi spirituali con l'egoismo giusto e essenziale non riesce a mantenere l'inganno più di tanto si deve rivelare ora dobbiamo fare un salto di difficoltà qualcuno dirà questo è proprio sadico è indispensabile vi sarete accorti che ha seguito le conferenze regolarmente che ci sono due caposaldi due pilasti dell'antroposofia che noi avviciniamo con molta prudenza e sono due tematiche che approfondiamo sempre con molta cautela e decisione una è il pensiero una volta l'uomo era ciò che mangiava per chi non si vuole evolvere ancora così per chi comincia un cammino spirituale soprattutto l'uomo è ciò che pensa faccio per esempio qualcuno mi scuserà mi ricordo una serata con dei medici che amici medici in famiglia allibiti dal fatto che madre Teresa lavava in India i lebrosi i malati di ads senza banco i guanti di lattici non si prendeva mai niente ma il pensiero di madre Teresa era molto al di sopra delle possibilità dei bagilli dei microbi l'uomo spirituale è ciò che pensa questo ogni giorno è più vero anche per gli altri pensando male poi di pensiero sbagliato intorno a noi cominciamo a poterlo raccogliere con la manga l'altro fondamentale è l'impulso Cristo queste sono le due colonne portanti dell'antroposofia ed è una dualità totalmente apparente perché se noi sappiamo che il Cristo è il Logos incarnato in Gesù di Nazareth e che il pensiero è la base della logica non è il contrario Logos logica vedete bene che la dualità è veramente apparente Logos pensiero è la luce divina nell'individuo Logos luce divina in tutto il cosmo quante volte l'abbiamo detto che tra pensiero e luce c'è un'identità che sono le due stesse due facce della stessa medaglia ora noi ci stiamo avvicinando a questa tematica centrale così ecco speriamo che qui non c'è una rincarnazione di Giotto questa è la tematica centrale noi vedete la prendiamo così cerchiamo sempre di andare un po' più vicino 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 al centro l'uomo può conoscere solo dalla periferia il nostro processo nosiologico per come siamo costituiti sulla terra è costituito della concatenazione di un concetto all'altro di un concetto all'altro in dimensioni sempre più vaste e sempre più profonde questo questo vedete questo è più profondo di questo questo sarà più profondo di questo e via è così detto così via ora perché questo preambolo perché l'argomento di adesso è veramente ostico di che cosa vive il defunto di quale forse si serve di quelle che hanno operato da vivo nel suo corpo fisico nella sua anima nel suo spirito invisibili di quelle che non ha percepito mai è un po' il discorso che abbiamo fatto sui dodici sensi se qualcuno ricorda quella conferenza che ci sono i sette sensi occulti e nell'aldilà si distribuiscono i dodici sensi in modo diverso non è semplice immaginare che io nell'aldilà vivrò di tutte le forze spirituali animiche che operano in me qui e non vedo io digerisco un bel pranzo ma io non ho fatto niente chi l'ha digerito chi ha trasformato per usare un girguaggio scientifico così raccontentiamo un po' le molecole chi ne ha estratto quello che doveva estrarre qualcuno l'ha dovuto fare non ne parliamo del pensiero ma invece parliamo proprio del pensiero nella nostra testa nel nostro cervello e qui è il difficile ci sono dei vuoti che sono più vuoti dei vuoti uno dice ma se una cosa è vuota è vuota come fa essa ancora più vuota in fisica è l'idea del buco nero che non ha energia ma è in grado di assorbirla continuamente però il buco nero è un po' aggressivo mette un po' paura no i vuoti che abbiamo nella nostra testa non sono così vampirici ma meno che vuoto che vuol dire va in banca prelievi il suo conto è vuoto mi dispiace mi date un prestito sì poi arrivano estratti in rosso è meno che vuoto quindi è in questi vuoti meno che vuoti che si produce il pensiero il corpo eterico lì organizza l'attività pensante poi immediatamente si disperderebbe ma la massa celebrale glielo impedisce lo riflette non è facile me ne rendo conto nell'aldilà viviamo proprio di questi vuoti meno che vuoti delle forze di questi vuoti meno che vuoti che sono immense perché sono in grado di produrre il pensiero o forse dovrei dire meglio sono in grado di produrre il pensare poi il pensiero lo articoliamo noi con la nostra individuale coscienza umana ora questo comporta un'importantissima modifica della nostra struttura animica fondamentale che è fatta di pensieri sentimenti brame desideri volizioni per quanto riguarda il pensiero si vive di questi vuoti meno che vuoti per quanto riguarda il sentire e la volontà c'è un'ulteriore differenziazione qui sono chiaramente separate torno a casa dopo una giornata pesantissima la poltrona preferita il brano di musica preferito perché uno in quei momenti non so se ne siete d'accordo tende a risentire per mesi sempre la stessa cosa e lì non c'è volontà lì voglio soltanto lasciarmi inondare da queste emozioni bellissime torno a casa se sente il concerto di Ravel per il concerto in solo ma che volontà voglio avere lì sei sommerso da questa volontà musicale cosmica immensa invece che mi si presenta una giornata in cui lì c'ho un esame lì c'ho un impegno lì devo contattare una vendita lì di volontà me ne serve tanta anzi è meglio che dei sentimento non ce ne metto in mezzo negli affari bisogna essere un po' freddi e lucidi questo andrebbe un po' insegnato ai nostri governanti magari gli regaliamo una barretta d'acciaio in là di là no originariamente prima che non ci incarnassimo erano uniti si separano perché qui è il corpo fisico che li separa perché perché il sentire viene supportato anche questo lo dovremmo approfondire dalla storia toracica cardiocircolatoria invece il volere dalle braccia e dal ricambio si vede anche nella vita normale se voi dite ah mi sono dimenticato le chiavi fate così se arriva una brutta notizia fate così la mano va subito qui e poi un atto di volontà di decisione Khrushchev che si toglie la scarpa e piglia a cazzotti il banco alle Nazioni Unite ha usato le braccia si separano qui si riuniscono nel dopomorte non esiste una parola per esprimere questa riunificazione diciamo che di là abbiamo un sentire volente brutto bruttissimo in italiano blu la mia insegnante al liceo sicuramente me la segnava blu forse se facevo un volere senziente ne mettevo due di striscette blu contentiamoci di sentire volente qual è lo scopo di questo sentire volente? ce ne ha parecchi ma è il fondamentale è farci rimarcare tutto quello che sarebbe stato nelle nostre possibilità realizzare e non abbiamo realizzato è una realizzazione importantissima per programmare il nostro futuro karma il corpo astrale nel fare questo si libera dal legame terreno più pesante e qui c'è una particolarità interessante che questa liberazione avviene in un periodo identico per tutti perché? perché dovendosi liberare delle forze del corpo fisico ci mette lo stesso tempo che il corpo fisico ci ha messo a costruirsi completamente il corpo fisico in quest'epoca completo a 28 anni si devono togliere i tre senza coscienza dal primo al terzo anno ne rimangono 25 questo processo di diciamo sublimazione dall'elemento astrale terreno avviene per tutti in 25 anni anche se la persona muore a 60 anni e con lo stesso scarto se disgraziatamente qualcuno muore a 15 anni si tolgono i primi tre e ce ne mette 12 la seconda la seconda modificazione riguarda invece direttamente la volontà perché il pensiero l'abbiamo visto il sentire diventa un sentire volente la volontà diventa una forza animica creativa potentissima che ha lo scopo di spingerci all'attività sono metamorfosi delle forze del pensare del sentire del volere che abbiamo utilizzato sulla terra e quindi risentiranno anche loro di come le abbiamo usate sulla terra questa forza animica creativa è indispensabile perché abbiamo detto che tutto nell'aldilà può essere solo frutto di attività quindi è importantissimo avere una risorsa potente in questa direzione e si manifesta come una luce che emana dal defunto e cresce più il defunto si serve di questa forza più cresce e più cresce più è la prova inconfutabile che si trova veramente ben radicato nel devashan nel mondo spirituale qui possiamo solo sottolineare che se muore un giovane il suo ingresso nel devashan è piuttosto facilitato perché percorrerà anche lui una limitata quota di corpo astrale di Kamaloka essendo morto giovane ma ce l'ha sempre nello sfondo il devashan e questo è un grande aiuto perché nel Kamaloka che sarebbe il cosiddetto purgatorio il fatto di vedere non so usando la stessa terminologia il paradiso sempre sullo sfondo è un bellissimo aiuto non solo ma se questo giovane è morto come un idealista ha dato la vita per un ideale superiore questo nei mondi spirituali è di un'importanza fondamentale perché porta di là la consapevolezza che l'essere umano è ancora capace di nobili sacrifici elevanti cosa che di questi tempi dall'altro parte non sono affatto sicuri sono molto titubanti sulla possibilità è un guaio perché si dovranno comunque reincarnare quindi sono purtroppo necessari i sacrifici di molti idealisti perché trasmettono alle anime la forza la convinzione l'entusiasmo per tornare sulla terra che è indispensabile come vedremo fra poco per la loro per la loro evoluzione successiva c'è poi un fenomeno che merita di essere sottolineato abbiamo detto che il nostro io di là non è modificabile come comportamento e allora la conseguenza qual è? che il mondo spirituale ci posiziona precisamente di fronte a un'entità che ha risolto il nostro problema perfettamente che è un modello a cui ci dovremmo ispirare qualcuno potrebbe dire eh sì ma per ogni persona trova nel... sì sì i mondi spirituali sono di una ricchezza inimmaginabile è un tipo di vita molto più ricco di questo chi teme che nell'aldilà ci sia un impoverimento solo se se l'è provocato lui qua si è vissuto come un miserabile qui e sarà un miserabile anche là se no varrà il detto evangelico a chi ha sarà dato e a chi non ha sarà tolto anche quel poco che ha queste frasi hanno tutte un valore iniziatico e di fronte a questo modello perfetto si realizza un'irregolarità rispetto a quello che abbiamo sempre detto cioè che qui vige la libertà e di là la necessità assoluta no in questo caso l'anima si può rifiutare di adeguarsi al modello per fortuna è raro però è un evento molto grave succede generalmente quando la distanza tra l'animo e il modello è troppa veramente troppa la conseguenza è parecchio seria perché quell'anima comincia a uscire da tutti i canoni previsti per l'evoluzione regolare del defunto nell'aldilà mi ricorderò sempre un mio carissimo amico un esempio proprio plebeo un'altra volta si dimise da un posto d'oro io quasi gli menavo ma te sei impazzito ma quello è un giardino dell'Eden stipendi sa che si era messo in te poverino è finito male o da quel momento non è riuscito una volta a inserirsi in qualche cosa è stato sempre così sballottato da tutto che alla fine poverino si è suicidato io gli avrei potuto dire allora guarda che se me l'avessi chiesto un consiglio a me ma i consigli a quelli che ti dicono quello che non vuoi sentire non si chiedono mai che mi direbbe Francesco di non dimetermi io lo chiedo ecco è grave rifiudarsi di adeguarsi a un modello è una soluzione pessima è uno dei casi di esercizio l'unico in questa sfera con delle conseguenze molto gravi esercizio della libertà ora a questo punto dobbiamo un po' riallacciarci al percorso già delineato nella conferenza precedente noi sappiamo che tutta la sfera del Kamaloka sostanzialmente si sviluppa nella sfera lunare soprattutto però poi dopo noi entriamo in quella di Mercurio e qui bisogna specificare ma che significa entriamo in quella di Mercurio certamente non ci spostiamo con uno shuttle l'universo è una serie di stati di coscienza che sono incarnati da entità che hanno però una base fisica coordinata e coerente con le loro possibilità quando inizialmente la terra è costituita da sole luna e terra le entità solari erano troppo evolute per rimanere una massa così arretrata si sono create il sole come loro patria personale e quindi passare dalla sfera lunare a quella di Mercurio significa lasciare la coscienza delle entità lunari e entrare in contatto con le entità della sfera di Mercurio parliamo sempre di sfere perché qui c'è la terra qui c'è la sfera lunare qui c'è la sfera di Mercurio eccetera eccetera tutto questo qui è ciò che chiamiamo la sfera nella sfera di Mercurio c'è una discriminante tremenda cioè la persona che ci arriva senza moralità è relegato proprio ed è escluso da un que forma sociale il che è grave perché se uno entra in una sfera così è perché deve ricavarne forze di cui avrà bisogno dopo addirittura nella sfera successiva venere chi ha evitato ogni forma di religione sulla terra l'ha proprio ripudiata il dottore usa la parola vive in uno stato di segregazione e chi è stato addirittura intollerante verso il sentimento religioso qui usa una parola ancora più grave parla di eremitaggio se ne sta su una colonna come un ostilita e vede il mondo che gli passa intorno poi finalmente si arriva sulla sfera solare e qui troviamo quest'altro impulso perché ci dobbiamo riallacciare a quella vecchia sentenza del mondo greco meglio un giorno da mendicante sulla terra che un secolo da imperatore nell'aldilà perché è perché l'aldilà era buio totale per molto tempo l'umanità ha conservato le forze spirituali prenatali se le conservate durante la vita era spese anche dopo la morte aveva una specie di luce naturale un'aurora boreale così un po' velata questo poi si è perso man mano che l'uomo acquistava l'io e il corpo fisico sviluppava un sistema nervoso così preciso come quello che abbiamo oggi nel mondo greco questo è stato il massimo e per quello il Cristo il Logos si è incarnato in quel momento nei tre giorni dalla morte alla resurrezione fa proprio questo va nel mondo dei morti e riaccende la luce letteralmente parlavano di Osoter il Salvatore i greci il Salvatore lo siamo anche noi come epiteto del Cristo oggi nella terza sezione del nostro viaggio nell'aldilà questo buio è serissimo perché questa barriera tecnologica questo materialismo protratto rende quasi impossibile mantenere la coscienza in quella sfera soltanto chi ha trovato qui un rapporto col Cristo ci può riuscire e qui bisogna essere tolleranti non è soltanto uno che si è letto il Vangelo e Giovanni il risultato no il rapporto deve essere innanzitutto devozionale per cui la persona che si va a fare la comunione con un spirito di santità e di devozione ce l'ha sicuramente il rapporto col Cristo però è ben diverso se ci va dopo aver letto tutto quello che può insegnare l'antroposofia in proposito perché come diceva l'abbiamo detto Leonardo solo chi possiede conoscenza è capace di vero amore Rothstein diceva che se ci sono due persone buone e una delle due è anche colta cioè non erudita cioè una che ha usato la cultura per coltivare se stesso in senso nobile beh quello sarà anche più buono però non toglie che chi riesce ad arrivare a trovare un contatto col Cristo qui sulla terra e non si può trovare nell'aldilà si può trovare solo qui se no non si sarebbe incarnato fisicamente se l'azione del Cristo si poteva esercitare nei mondi astrali perché venire qui che motivo no no è venuto qui perché l'uomo non era più in grado di vedere un Dio non incarnato lo doveva vedere solo in carne e ossa a quel punto era già cominciata la cecità spirituale il Cristo riesce a portarci fino alla sfera del sole con la coscienza naturalmente per quello che abbiamo appena detto sono sfumature di coscienza minima forte fortissima è come se voi fate un viaggio meraviglioso si addormentati un po' ubriachi e invece svegli preparati dopo aver letto tutte le usanze del popolo dei mari che attraversate voi da quel viaggio ricaverete moltissimo saranno spogli spesi bene ora non è tutto qui perché poi la potenza del Cristo ci sa dare che cosa un impulso ulteriore e qui si apre un discorso molto delicato perché dopo il sole ci sono Marte Gio e Saturno ecco la guida nei mondi superiori è il lucifero superiore perché se no lucifero perché si chiama così portatore di luce perché c'è il lucifero superiore e quello inferiore e quello inferiore a che serve a ostacolarci per costringerci a tirar fuori il meglio di noi la parola ostacolatori vuol dire questo qui si impone una deduzione del generale è questa non esistono entità buone o cattive esistono azioni cattive da parte di entità o buone e che cosa determina che siano buone o cattive il modo in cui noi le approcciamo se uno arriva a confrontare un'entità come lucifero pieno di un egoismo molto del ragno ma lucifero gli toglie anche quel poco che gli era rimasto se uno arriva alla fine della sfera solare addirittura illuminato dalla forza del Cristo perché se l'è potuta sostenere è lui stesso che attiva la luce superiore di lucifero perché non bisogna mai pensare che nell'aldilà manchi la coscienza ce n'è troppa la coscienza cosmica è abbagliante l'unico modo per non essere estorditi è avere sviluppato una coscienza spirituale nostra qui si deve estrarre saggezza con la nostra saggezza altrimenti altrimenti è come se una persona noi vediamo tante persone intorno a noi che sostanzialmente non vivono secondo me passano una vita mezzo addormiti prendono le idee dagli altri si fanno guidare dalle tradizioni dai luoghi comuni dalle mode addormentati sostanzialmente quando dovranno rispondere dell'uso dei venti talenti nel migliore di casi li possono restituire certo se hai dato tanto da fa figliolo ne hai portato 40 bravo tu hai portato le forze umane ricevute inizialmente dal cosmo le hai restituite dal cosmo e arricchite ora Lucifero è importantissimo perché ci apre la porta verso Marte e Marte ci apre la porta verso lo zodiaco passiamo Giove Saturno e qui c'è un'esperienza grandiosa perché al confine del sistema solare planetario abbiamo davanti e davanti la coscienza attenzione dei mondi stellari la devo ribadire questa necessità perché per esempio sono certo che in merito alla cosiddetta cronaca della cascia molti hanno dei dubbi formidabili cioè questo registro cosmico in cui sono registrati tutti gli eventi del del nostro mondo in che modo abbiamo detto che gli eventi li possiamo percepire solo nei tre giorni dopo la morte allora che cosa si registra se per esempio un iniziato vuole approfondire il momento in cui Cesare passa il rubicone alea iacta est poi voleva dire speriamo che me la cavo non è che vede il cavallo le schizzi le truppe l'acqua no percepisce i pensieri i sentimenti e gli impulsi di volontà che hanno guidato Cesare in quel momento questo percepisce nella cascia quindi si comincia a capire che se uno si presenta di fronte alla coscienza cosmica totalmente naif proprio senza aver sviluppato nessuna spiritualità viene sommerso completamente e invece è Lucifero anche con tutte le più buone intenzioni non potrebbe fare assolutamente nulla arrivati al confine di Saturno si fa un'esperienza grandiosa cioè si vede la coscienza dei mondi stellari zodiaco innanzitutto e si ha la satta sensazione di quanto siamo poca cosa di fronte alla grandiosità del cosmo è un'esperienza molto importante perché non vorrei essere eccessivo l'educazione può molto gli esempi moltissimo ma le persone veramente umili che non sono molte l'hanno fatta questa esperienza l'umiltà l'hanno acquistata là rendendosi conto della grandiosità del cosmo e dopo di che che succede la maggior parte di quelli che sono già arrivati lì che un bel risultato si addormenta perché perché non è in grado di assorbire le indispensabili energie del cosmo che sono quelle che poi formeranno l'embrione il nostro cranio è completamente costruito dalle forze cosmiche il resto del corpo no ci sono le forze terrestri prevalente poi da un certo punto in poi subentrano delle variazioni che ora descrivo ma l'importante cos'è è che quelli che sono arrivati a questa periferia del sistema solare con una coscienza molto forte sono in grado di portarsela anche verso il mondo stellare e sono quelli che fanno progredire la civiltà si è potuti passare dal periodo paleo indiano al paleo persiano perché Zaratustra ha trascinato ha preso forze cosmiche nel mondo stellare in piena coscienza e le ha poi trascinate sulla terra e ha potuto evolvere la civiltà dal sistema paleo indiano ormai un po' morente al paleo persiano poi Hermetetis Megisto ha fatto lo stesso con gli egiziani ma non solo loro grandi scienziati grandi benefattori saremmo freschi se fossero solo loro perché e questo è un capisaldo della spiritualità le forze che fanno progredire la civiltà possono venire solo dal cosmo stellare solo da quello come le forze che fanno progredire l'interiorità dell'anima umana possono provenire solo dalla stella del nostro sistema cioè dal sole da che si deduce che tutto il progresso esteriore e interiore non può mai venire dai pianeti corpi morti che comunque hanno le loro funzioni ci sarà una conferenza apposita sempre che ma solo dal mondo stellare e Dante qualcosa doveva sapere perché l'amor che muove il sole e le altre stelle anche se so che ai tempi di Dante per stelle si intendeva ogni astro ora evidentemente si torna indietro bisogna ritornare sulla terra l'abbiamo descritto nelle conferenze sull'aldilà non ci soffermeremo a parte di un dettaglio secondario no importantissimo che su Giove scegliamo in quale religione ci vorremmo reincarnare può essere la stessa dell'incarnazione precedente o un'altra e qui può svolgere un quesito piuttosto così meravigliato ma come l'esigenza di scegliere una religione è predeterminata nel nostro viaggio cosmico addirittura assolutamente assolutamente c'è una certa tendenza che io non la definisco nemmeno culturale che si esprime contro ci sono state delle vette in questa insensatezza per cui mi ricordo l'affermazione di nomi non li facciamo mai è una forzatura imporre concetti spirituali al bambino perché è dimostrato che quelli che crescono senza educazione religiosa non li sviluppano da soli crescono e rimangono atei tutta la vita quindi questi signori credono di dedurre che imporre pensieri ed educazione religiosa sia una forzatura una impalcatura sociale di alcune categorie borghesi o simili però qui bisognerebbe dire a questi signori voi ritenete il linguaggio una cosa essenziale della natura umana sicuramente sì non la metterete sullo stesso piano del sentimento religioso una persona che non può parlare è muto è sordo muto lo considerate un fallimento ebbè è pure dimostrato che quando nell'ottocento delle spedizioni nella giungla si perdevano purtroppo dei bambini e li hanno ritrovati dopo vent'anni non c'è stato verso di insegnargli a parlare ormai l'organo della laringe e la zona del broca o broca li sento sempre dire tutti e due non si erano sviluppati a contatto delle altre voci il bambino è rimasto muto l'imperatore Federico II ne ha fatta una molto grossa in questo senso siccome si circondava di sagge non c'è niente più pericoloso perché se uno spilluzzica si è messo in testa che quelli che gli parlavano del linguaggio originale dell'umanità bisognava dimostrarli dimostrarne la fondatezza ha dato ordine che un gruppo di neonati nascesse in un castello completamente relegato dal mondo senza sentire mai una voce umana il suo ragionamento era se non sentono mai linguaggi moderni finiranno per parlare con linguaggio primordiale povori figli sovvenuti tu muti con grandi problemi che ho dito e lui senza scomporsi li ha fatti eliminare tutti un po' sopravvalutato sto Federico ora il sentimento religioso il linguaggio sono latenti devono essere stimolati perché se no si rimane atei o muti quindi l'educazione religiosa del bambino è importantissima sto parlando di un'educazione di un senso religioso alto quindi tollerante rispettoso non fanatico e nelle scuole staineriane questo è un aspetto molto curato ora si avviciniamo un po' alle conclusioni nel devacian la situazione fondamentale di chi ci arriva in piena coscienza è la beatitudine poche parole da noi si chiama il paradiso per attraversare il cabaloga precedente in modo migliore non c'è niente di meglio che abituarsi a sane rinunce sulla terra rinunciare per esempio al superfluo ma anche non solo a quello le rinunce qui sono tutti versamenti nel cabaloga invece nel devacian è importantissimo sviluppare nella terra l'altruismo arrivare nel devacian comunque perché ci sono altri meriti che hanno sostenuto la coscienza però con un atteggiamento poco altruistico è uno smarrimento continuo ma l'esperienza è persa quasi del tutto e la beatitudine è più grande in che cosa consiste nell'assistere alle gerarchie che creano il corpo umano indistintamente cioè la creazione generica perché il corpo umano solo in un secondo tempo si individualizza l'embrione è costituito da forze cosmiche poi nascendo le elimina e si serve di forze terrestre e planetarie per sviluppare la creazione del cosmo solo dopo intervengono le forze ereditarie piuttosto tardi che oggi sono un po' sopravvalutate ma c'è qualche medico intelligente che mette in guardia non pensate che siccome c'è un precedente ereditario in famiglia per forza no no può succedere che forse con un po' più di facilità che verso altri ma non è detto ci sono medici intelligenti che avvisano in questo senso ora non è tutto qui perché noi sulla terra abbiamo bisogno di imparare molte abilità se vogliamo sopravvivere moltissime non sa dalla madre di famiglia che magari lavora pure quante cose deve saper fare e spesso insomma con i mezzi limitati andare al lavoro torna a casa cucinare in silenzio perché non bisogna disturbare il marito che legge il giornale sulla poltrona per parlare poi del neurochirurgo che deve rimuovere un tumore ipofisario deve avere un'abilità spettacolare da essere proprio dotato di natura infatti sono pochi sono pochi cioè quelli veramente ad altezza e questo che significa che anche nell'aldilà dobbiamo acquisire abilità e per quanto possa sembrare strano la principale è che impariamo a costruire il nostro cervello insieme alle gerarchie ma perché durano mille anni gli intervalli tra due vite per molti motivi ma questo è uno dei fondamentali ci vuole parecchio tempo per imparare a costruire questo complesiatissimo strumento noi siamo sempre abituati a un'educazione religiosa in questo senso un po' oggettivistica esiste è fatto la scienza poi va sempre in terza persona si muove è attirato gravita non c'è mai un soggetto attore e protagonista non si muove niente nel cosmo che non ci sia dietro un lavoro immenso delle entità che si applicano quando abbiamo parlato degli arcangeli che si scambiano i compiti nella conferenza sul corso dell'anno vanno considerati dei professionisti altamente specializzati che da millenni fanno solo quello Gabriele si occupa delle nascite del parto da sempre l'arcangelo dell'annunciazione Gabriele ora imparare a costruire il nostro cervello è una grandissima grandissima assicurazione verso il saperlo puoi usare non è sempre facile spiegare perché una persona sia tanto intelligente mi sono che sarà capitato anche a voi famiglie dove tutti hanno lo stesso trattamento fanno le stesse scuole poi c'è uno che spicca proprio c'è il karma c'è quello che ha fatto ma questo che abbia potuto collaborare sia stato ammesso dalle gerarchie a collaborare alla costruzione del proprio cervello vuol dire che è arrivato lì con una coscienza molto forte spirituale con tutte le carte in regola poi lo saprà usare molto molto bene ricordo un esempio bragnalissimo di una scuola antroposofica a Milano che si trovò di fronte l'avrò già detto credo una volta si trovò di fronte al problema di dover accettare l'insegnamento del computer anche nei loro corsi fecero una cosa molto intelligente chiamarono un ingegnere cibernetico che si è presentato con un computer smontato nelle parti principali e l'ha fatto rimontare agli allievi i quali poi interrogati dicevano ma mi sembra di possedere una cosa mia che conosco che non mi fa sentire e a disagio perché tutto sommato l'ho montato io è un esempio molto molto terra terra me ne rendo conto e possiamo a questo punto tirare la prima somma di che cosa siamo fatti a questo punto siamo fatti di che allora dell'io che urta contro il nostro passato terreno e lo percepiamo quindi da fuori del sé spirituale che svilupperemo pienamente su Giove corpo astrale trasformato che percepiamo invece da dentro poi del budi cioè del corpo eterico trasformato che fa piazza pulita di tutti i resti eterici eventualmente rimasti e così permette lo sviluppo di nuovi elementi animici e poi abbiamo l'atma l'uomo fisico quello che svilupperemo su Vulcano Giove Venere Vulcano il quale disgrega le vecchie forme e ne costruisce di nuove la testa di un neonato è il risultato della metaforfosi delle forze archetipiche delle sue membra e del suo ricambio nell'incarnazione precedente cioè ricambio e membra diventano la testa non la testa fisica e il cranio quello della millennialità ce l'aggiunge poi la terra durante i nove mesi l'archetipo spirituale questo è così vero addirittura che una volta Goethe che ebbe questa intuizione nel cimitero di Venezia trova un teschio cadde e si aprì come un torace ora non è che avviene così brutalmente la cosa però abbiamo detto che il corpo di questa incarnazione diventa ora lì si trattava di un animale era un teschio di pecora per cui la cosa è completamente diversa qui noi abbiamo che la testa è il risultato dell'incarnazione precedente le membre le gambe rimandano a quella futura e il torace la parte mediana bilancia i due quindi l'esempio di Goethe vale solo come forma di metamorfosi non rionducibile all'umano detto questo possiamo chiederci ma nei mondi spirituali questa benedetta religione così importante esiste? c'è una forma di religione per gli dèi? assolutamente sì e qual è? è l'ideale uomo il corpo umano è la cosa più importante dell'universo tutte le gerarchie collaborano per il suo perfezionamento continuo quando si diceva che il corpo umano è il tempio degli dèi si dice una grande verità e questo è veramente un ideale religioso e qui si propone un'altra possibilità che il lucifro non superiore quello inferiore tenta sempre le anime invece verso la irreligiosità verso la rinuncia di questa faticosa e dolorosa ricerca della perfezione che non è una passeggiata e si propone il secondo caso di cui parlavamo prima in cui è possibile esercitare la libertà cioè un'anima può decidere di non volersi più rincarnare e quindi che cosa ne sarà rimarrà nel migliore dei casi un angelo imperfetto e decaduto e presto retrogrado perché se l'evoluzione è questa l'ideale religioso scusate ho preso una paperella grafica l'ideale religioso è questo di andare verso la perfezione dell'essere umano nel disegno precedente cioè sé spirituale cioè manas budi e atma giove venere vulcano l'anima che decide di non seguirlo che fa si ferma qui però poi l'evoluzione procede e rimane sempre qui noi lo vediamo che succede alle civiltà che non evolvono che rimangono indietro già ce n'abbiamo un'idea qua cioè che tutti gli altri se ne servono li sfruttano e non sono in grado di difendersi non è mai un bene rimanere indietro dal punto di vista della vera evoluzione poi non significa che uno deve correre sei la mattina per fare la fine e comprare il nuovo iPod no no non c'entra niente ora quindi qui ci troviamo di fronte all'altro aspetto di Lucifero il quale depaupera molto le anime delle persone che sono state materialiste parecchio e questo è un guaio perché poi quelle forze che Lucifero toglie sono indispensabili per incarnarsi bene nel migliore dei casi una persona defaudata depauperata da Lucifero in questa sfera sarà un egoista tremendo vedete noi ce l'abbiamo parecchi intorno non funzionano le prediche non funzionano le minacce non funzionano gli esempi non funziona niente una volta rubava chi ha necessità oggi ruba chi ha già stipendi da 7-8 mila euro al mese un egoista tremendo vede tutto il mondo solo in fisura di se stesso della propria immagine del proprio potere e questi sono tutti quelli per cui non c'è speranza cioè dice ma li possiamo correggere ma no che ti vuoi correggere a meno che non fanno la fine dell'illuminato che è veramente quello che rende i promessi sposi un romanzo universale il rapporto tra l'illuminato e Carlo Borromeo che poi diventerà San Carlo perché se gli togliete quello è una storiella un po' di paese e quindi ci sono queste due possibilità di libertà rifiutare di perfezionarsi secondo il modello e rifiutare di proseguire il cammino verso la nuova incarnazione anche Arimene dall'altra parte non sta a guardare Arimene ci depreda di forze nel senso opposto cioè ci aggrava di mineralità archetipica per cui poi reincarnandoci abbiamo fisici pesanti soggetti alle malattie difficili da spostare animo greve ecco questa è influenza arimanica allora a questo punto torniamo scusate le spalle per pochi secondi a qualcosa di cui ci siamo già occupati che non vale solo qui sulla terra ma anche l'aldilà questo famoso trittico che abbiamo usato nelle conferenze sulla libertà l'uomo che trova l'aggancio col Cristo tiene a bada un bellissimo lucifero l'abbiamo detto che lucifero è molto bello è un orribile Arimene e che cosa riesce a fare tenendole a bada cristicamente parlando riesce a usarli bene perché chi arriva alla sfera solare essendosi ben identificato con l'impulso Cristo costringe lucifero a trasportarlo cosciente fino ai limiti del cosmo questa è la vera immaginazione fondamentale dell'antroposofo io qua ufficialmente invito tutti coloro che tendono veramente a seguire l'antroposofia a farne lo sfondo della propria vita perché tutto è rinchiuso in questa immagine il futuro della civiltà la salvezza sta tutto qua il vero antroposofo qualunque cosa fa dovrebbe avere sempre sullo sfondo questa immagine che vi assicuro oltretutto è molto gratificante e trasmette forze continuamente nei momenti difficili è un aiuto immenso dovrebbe diventare il fondo dell'anima dell'antroposofo perché su tutta l'antroposofia è costruita su questo trittico ora siamo proprio alla conclusione abbiamo descritto un percorso immenso abbiamo visto che la nostra concezione della morte riguarda solo l'aspetto terragno abbiamo descritto molto però ci rimane un aculeo questa morte è un peso grosso è qualche cosa che ci costa parecchio perché persino il timore della morte rovina molto la vita perdere una persona cara sapere che la potremmo perdere che non si sa se supererà quindi l'antroposofia sarebbe falsa se sottovalutasse questo aculeo nonostante tutto quello che abbiamo detto mi ricordo mi permetto un ricordo personale forse non sarebbe giusto inserirlo ebbi la fortuna di sentire di assistere all'ultima rappresentazione in pubblico di Edoardo De Filippo al Teatro Eliseo a Roma l'ultima perché lui stesso aveva detto che quella sarebbe stata l'ultima apparizione in pubblico quando lo spettacolo era finito tutti stavano per alzarci lui è sgagliattolato in mezzo al sipario ha fatto capire che voleva parlare ha praticamente declamato il suo testamento umano e artistico è morto poco dopo ora quello che diceva tutto sommato non è che mi abbia colpito però percepì subito ad un certo punto in poi che stava subentrando una forza che non era più la parte della sua anima che sta qui già una gran parte della sua anima era dall'altra parte cioè era questa adesso naturalmente in quel momento non ho conosciuto Ludo Stein non capivo niente però l'esperienza era chiarissima quindi dopo essere stato un po' distratto per lo spettacolo distratto per le sue prime parole da quel momento in poi ho cominciato a guardarlo in un modo particolare e c'è stato questo crescendo questo crescendo del sé spirituale per cui alla fine lui con una voce rotta ha detto che lui ringraziava il pubblico e i colleghi e ringraziava Dio per questa vita meravigliosa ma Dio ti prego in futuro dacci una vita senza morte e quelle parole lasciarono tutti veramente il tono con cui le pronunciò secondo me impressionò il pubblico più di tutto spettacolo ecco perché c'è questo aculeo tremendo perché noi tutti proveniamo da un mondo sora sensibile che ha periodicamente necessità di un'esperienza fisica legata alla materia cioè al perituro siamo esseri per una parte imperituri e per una parte perituri per via di questa origine quando la luna si è staccata dalla terra perché prima si è staccato il sole estratto dagli spiriti solari poi si è estratta la massa della luna che è più densa ci sono voluti gli spiriti di saturno che sono più potenti e l'hanno estratta non tutto è stato estratto è stato estratto perché conteneva forze mortifere che avrebbero impedito lo sviluppo dell'essere umano ma era necessario lasciarne una parte noi abbiamo visto già nelle conferenze più fisiologiche che solo distruggendo monovroni per via dei nevroni che muoiono che possiamo sostenere il pensiero tutto il legame che c'è continuamente viene descritto a molti livelli embriologico della natalità delle maree tra la terra e la luna non sarebbe possibile se non fossero rimaste quantità notevoli di entità lunare spirituale nella terra sono queste che reagiscono verso la luna non si capirebbe se no perché un corpo più piccolo attrae uno più grande c'è una relazione naturalmente queste forze sono mortifere moribonde sono necessarie per avere la coscienza però ci fanno desiderare proprio l'ideale di cui parlava Edoardo arrivare un giorno che sarà proprio l'obiettivo dell'uomo già su Giove a una vita senza morte quindi noi viviamo con organi costellati di elementi perituri dai quali dobbiamo estrarre l'imperituro il compito dell'uomo è proprio questo estrarre l'imperituro dal perituro l'imperituro un giorno formerà un nuovo cosmo Giove che sarà fatto dei frutti di questo mondo perituro che non esisterà più questo dovrebbe dare anche un senso un po' di accettazione di questo aculeo e possiamo aggiungere poco a un concetto così alto però anche in questa estrazione dell'imperituro dal perituro questa realtà è assolutamente indispensabile e insostituibile io sono la via Giove la verità la conoscenza e la vita se ti vuoi salvare dall'imperituro e andare verso il perituro io sono il percorso sono venuto apposta qui nel mondo perituro e l'ho sperimentata apposta alla morte per portare nel regno della morte le forze dell'eternità noi possiamo aggiungere solo una considerazione viviamo in un momento finalmente di un po' di risveglio di coscienza ecologica ricordo quattro anni fa la prima conferenza lanciai un po' di silurio adesso la cosa è molto più sviluppata è giustissimo risparmiare non inquinare questo però è un discorso che tutti gli antroposofi veri devono osservare ma non basta per noi non è questo il più importante inquinamento quando moriamo noi consegniamo al cadavere alla terra il nostro calore con la cremazione in poco tempo con l'inumazione in un periodo più lungo il calore è semplicemente fisico se ne va dopo pochi giorni dalla temperatura si può stabilire l'ora della morte il calore animico spirituale che è quello decisivo invece prende le due strade immediata o lenta ma penetra nella terra è molto diverso se questa sintesi dell'essere umano è esclusivamente luciferica arimanica o è stata cristificata da questo incontro noi stiamo depositando miliardi di cadaveri arimanici nella terra perché ormai questa cultura super tecnologica si è diffusa dappertutto miliardi di cinesi miliardi di indiani io ho visto nella grande festa sul gange dei risci indiani che accolgono milioni di persone tutti con l'iPod con il telefonino con il computerino turbante seduto così e c'è il co come si chiama il list ma sono maco e questo è il più potente degli inquinamenti questo veramente desertifica può risultare incredibile sicuramente un biologo si fa due risate e però invece se uno ha afferrato bene tutta la logica l'elemento così inquinante più potente è questo veleno che i corpi assolutamente arimanici distribuiscono solo questo calore arimanico e guardate che il calore è praticamente l'etere in cui si sviluppa la vita un calore eterico arimanico voglio dire assuriceferico arimanico produce o deserti o maremoti non so chiamatela come vi pare ha un'influenza non è immediata naturalmente non succede il giorno dopo che quello è morto però se lo moltiplicate per questa massa immensa di persone che sostanzialmente muore c'è stata un'inchiesta recentemente che lascia sbalorditi i giovani di intorno ai 16 o 18 anni non sono irreligiosi proprio per loro il problema religioso non esiste proprio non si pone a nessun livello nemmeno filosofico ai miei tempi io mi ricordo che al liceo c'erano delle dispute filosofica sanità tra cantiani e cheliani quasi ci menavamo quindi l'antroposofo deve rispettare ovviamente meglio degli altri tutti gli accorgimenti ecologici ma deve essere consapevole di questo ci sono domande allora vi lascio un elenco di libri steineriani grazie 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 grazie